La prevenzione è da sempre fra i principali strumenti a disposizione della medicina per il contrasto alle malattie oncologiche. È questa la tematica sviluppata dal 28 al 30 novembre durante l'evento formativo dal titolo Miglioramento continuo della qualità dello screening mammografico, il TSRM nello screening mammografico, organizzato dal CEF Pass su indicazione del Servizio 1 del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, diretto da Lucia Lissacchi, responsabile scientifico in collaborazione con Mario Valenza, responsabile del Centro Gestionale Screening dell'ASP di Palermo. Attività formative come questa testimoniano l'attenzione e l'impegno che la Regione Siciliana ripone nella promozione della partecipazione ai programmi di prevenzione oncologica, strumenti di dimostrata efficacia nel migliorare la salute della collettività, ha dichiarato l'Assessore regionale della salute Giovanna Volo. L'obiettivo del corso è la promozione costante della qualità dello screening mammografico in Sicilia, seguendo il modello adottato in Emilia Romagna con azioni di ottimizzazione della clinical competence e della performance esecutiva dei radiogrammi, oltre che degli aspetti organizzativi, comunicativi e motivazionali, rivolte ai tecnici sanitari di radiologia medica. La formazione continua degli operatori sanitari è un elemento fondante dei programmi di screening oncologico ed essenziale nel garantire la promozione della qualità. Questo è solo l'inizio di un progetto formativo che rientra tra le attività pianificate, ha detto Lucia Lisacchi, concetto ribadito anche dalla responsabile gruppo coordinamento TSRM screening mammografico dell'Emilia Romagna, Vania Galli, che ha sottolineato come l'attenzione non sia mai venuta meno e come l'impegno all'apprendimento del metodo e del system quality applicati in Emilia Romagna abbiano raggiunto i livelli più alti di coinvolgimento e condivisione. Durante il corso è intervenuta anche Carmela Amato, dell'Associazione Serena di Palermo e delegata per la Sicilia di Europa Donna Italia, che ha siglato un protocollo di intesa con l'assessorato regionale della salute per la promozione dello screening mammografico in Sicilia.